Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Pensavo a questo mese. È un mese incredibile, febbraio. Proprio per il collegamento che c'è con la questione dell'estradizione di Assange e nello stesso momento altre estradizioni che la storia ha dimenticato. Nel febbraio del 1593 Giordano Bruno veniva estradato da Venezia a Roma. A me è molto caro questo collegamento tra Assange e Bruno, così come è molto caro in generale il personaggio di Assange e il personaggio di Bruno dall'altra parte, perché trovo moltissimi collegamenti, compresi i capi d'accusa, anche se sono passati molti secoli, si assomigliano parecchio. Intanto, perché questo collegamento? Allora, se andiamo a guardare un attimo quello che è l'insieme delle accuse che vengono mosse a Giordano Bruno, che viene poi recluso prima a Venezia e poi per sette anni a Roma, tra il 1593 e il 1600, notiamo che ci sono dei collegamenti. Di che cosa viene accusato Bruno? Di aver messo in discussione le verità del sistema. Tutto un impianto dogmatico e dottrinale che la Chiesa aveva ben messo in atto e costruito in reazione alla terribile vicenda della riforma protestante e di tutto quello che questo aveva comportato da un punto di vista della messa in discussione, della messa in crisi di quelle verità che la Chiesa di Roma adesso ribadiva con più violenza. Allora, Bruno è colui che mette in discussione la verginità della Madonna, è colui che mette in discussione la Trinità, ma è anche colui che mette in discussione il geocentrismo così fondamentale per la Chiesa di Roma, perché, pensate un po' a cosa potrebbe mai voler dire, soprattutto nella mentalità di quel momento, l'idea di una Terra che non sia al centro dell'universo, ma sia uno dei tanti pianeti che gravitano attorno al Sole, che girano intorno al Sole, e quindi la venuta di Gesù Cristo si ridurrebbe a una specie di farsa, a un copione, perché dovrebbe, tanto più nella mentalità di Bruno, nell'ottica di Bruno dei tanti corpi celesti eventualmente abitati, dice Bruno, beh, se ci fossero più pianeti abitati, cosa fa Gesù? Dovrebbe scendere in ogni pianeta ad annunciare la buona novella e poi farsi uccidere, poi risorgere, è evidente che questo discorso del geocentrismo invece dà un'idea diversa, la Terra come unico pianeta abitato al centro di questo spazio. Quindi mette in discussione sia la verità, diciamo, teologica, ma anche quella scientifica del momento. Però dall'altro lato, tra i capi di accusa con cui era stato arrestato a Venezia su denuncia del nobile Giovanni Mocenigo, c'era anche quello di essere di costumi libertini, cioè di essere, insomma, un depravato. Giordano Bruno amava l'amore e amava le donne e amava l'amore nel senso di considerarlo la via di accesso a Dio e il modo con cui lo si raggiunge in modo, diciamo, profondo, perché il rapporto sessuale è in qualche maniera il modo attraverso il quale si sente il respiro della divinità. E anche Assange mette in discussione i canoni ufficiali scientifici, ma soprattutto, diciamo, la verità ufficiale dei buoni e dei cattivi. A me sconvolge spaventosamente questo video collateral murder così famoso eppure così poco diffuso. mi sconvolge soprattutto non solo la freddezza con cui quelli che schiacciano i pulsanti uccidono le persone per la strada, ma mi sconvolge soprattutto, e l'ho detto tante altre volte, il fatto che che quelli siano ancora in giro, siano liberi, che il cattivo sia colui che ha diffuso queste cose. Siamo in questo mondo. Siamo in un mondo al contrario in cui chi fa quelle schifezze e chi dà il via a queste schifezze e chi addirittura dà gli ordini a questi sciagurati per far sì che questi ammazzino delle persone che stanno facendo la spesa per le strade della loro città, beh, queste persone siano lì tranquille, libere e siano dalla parte dei buoni, dei giusti, mentre chi ha diffuso questo da anni è recluso e torturato. e adesso la sua vita è in pericolo. Bene, nel febbraio del 1593 Bruno viene spostato da Roma, da Venezia a Roma, su una nave. C'è un bellissimo libro che io consiglio di Eugen Dreverman che si intitola Giordano Bruno, che è una specie di versione romanzata degli ultimi anni di Bruno, dal momento di questa estradizione fino alla sua morte. e mi ha colpito sempre, me lo ricordo sempre, una parte, un brano, un estratto in cui immagina Bruno bere una tazza di caffè sulla nave che lo porta a Roma, sapendo che le cose peggioreranno perché Venezia ha lasciato a Roma, ha passato a Roma la palla perché Roma vuole Bruno, perché Roma vuole distruggere Bruno. Bruno ha già, Venezia ha già dato l'ok, ha detto che abbiura, ma che vuole farlo in forma privata, non in forma pubblica, perché non vuole che i suoi scritti siano così tanto infangati al punto da diventare carta straccia. Stiamo parlando in quel momento di uno dei massimi filosofi del mondo ed è italiano e lo conoscono in Inghilterra, in Germania, in Francia e Roma lo vuole, e lo vuole massacrare. Bene, mentre lì che sta bevendo il caffè, uno dei, non dico primi caffè, ma insomma, il caffè è stato scoperto da poco, in quella immagine di Dreverman guarda la tazzina, caffè bollente, nero, la tazzina scotta, il caffè ribolle e ognuna di quelle bollicine, nota Giordano Bruno, riflette la luce del sole. Questa è un'idea che Bruno ha molto forte, l'idea che l'uno coincida con i molti e con il tutto, che Dio sia ovunque, che non esista nemmeno differenza tra materia e spirito, che tutto sia divino. Il filosofo convinto che tutto sia divino è il filosofo che viene accusato e condannato a morte per ateismo. È tutto il contrario. Ebbene, lui guarda quelle bollicine che riflettono la luce del sole e pensa sono tante, vanno e vengono, ma ognuna di queste bollicine riflette la luce a modo proprio. Questa è una idea di una gestione della verità soggettiva, particolare, che chiede rispetto per la verità degli altri, che chiede dialogo, confronto, che non può essere accentrata, come si può dire, monopolizzata, che non può essere la verità unica, ufficiale, quella dei buoni, che impongono la loro verità ai cattivi, come accade ad Assange. In questo momento io sto parlando in una sala in cui ci sono delle persone che assumono una posizione diversa nello spazio e non c'è una sola persona qui dentro che senta quello che dico o veda quello che sta vedendo esattamente nello stesso modo in cui la sente e la vede il suo vicino, tanto più una persona più lontana di lui, anche solo di un metro, due. Ci sono infinite prospettive e dobbiamo imparare a rispettare tutte queste prospettive e non arrogarci il diritto di manipolare la verità e di accentrarla come se fosse unica e nostra. Perché il caffè mi è tornato in mente? Nella penultima settimana di novembre un giornalista di un sito brasiliano, io ho pubblicato questa intervista perché perché era abbastanza interessante e è andato ad Assange nel carcere di Belmarsh e è andato a intervistarlo, voleva parlargli, gli hanno fatto prima il quarto grado, lo hanno praticamente scannerizzato vivo, gli hanno tolto tutti i documenti, controllato tutto e poi l'hanno fatto entrare ma insomma erano controllati a vista. A un certo punto gli hanno chiesto, volevano dare la parvenza di essere buoni, gentili, umani, gli hanno chiesto, hanno chiesto a questo giornalista se per caso volesse qualcosa, un caffè, un bicchiere d'acqua, un tè, ha scelto il caffè, gli hanno portato il caffè, era in un bicchierino di plastica con un tappo, il giornalista ha provato a bere, era molto caldo quel caffè come quello del 1593 di Giordano Bruno, l'ha riposato sul tavolo e si è dimenticato di chiuderlo, sono corsi i poliziotti subito a rimproverarlo e a mettere il tappo, lui non ha capito e all'uscita ha chiesto prima di andare via perché questa cosa, perché e gli è stato risposto caro amico tu sei davanti a un criminale, è accusato delle peggior cose, tenete conto appunto, anche le accuse di stupro della fine del 2009 a carico di Assange come Bruno, come Bruno è libertino e di costumi insomma riprovevoli e allora di fronte a un uomo così c'è il rischio che ti schizzi con il caffè te lo tiri addosso ti ustioni e questo giornalista è andato via pensando come sono umani come sono buoni ma come potrei mai fare io senza quei poliziotti che mi tutelano che mi accudiscono che vigilano sulla mia sicurezza e stanno torturando psicologicamente in un carcere di isolamento dei peggiori un uomo che ha il che ha la colpa di averci informati e come è stato detto prima questo è un grande fattore di deterrenza perché vuol dire signore e signori sappiate che tutto quello che riguarda la verità la gestiamo noi e se provate a metterla in discussione non solo vi faremo il mazzo ma sarete soli perché ve lo dimostro ve lo dimostriamo guardate guardatevi intorno nessuno vi aiuterà nessuno dirà niente di voi nessuno cercherà di non so di salvarvi perché ognuno cercherà di salvarsi il culo è quello che sta succedendo il fatto che Assange venga lasciato in questa situazione e che quattro gatti qua e là ed è già un successo perché soltanto l'otto di ottobre quando ho cercato di mettere su questa iniziativa sembrava un pazzo e non l'ha condivisa nessuno ho scelto l'otto ottobre per ricordare Assange perché è in realtà l'otto ottobre il giorno in cui Bruno riceve l'ultimatum dall'inquisizione dice 40 giorni da oggi dall'otto di ottobre del 1599 40 giorni per dirci che abbiuri dopodiché se non lo fai sei morto e Bruno non lo fa quindi la questione è proprio questa quando ci ho provato e ci hanno provato anche altri pensate ai tentativi di Paolo Barnard che adesso è assolutamente ci siamo sentiti anche recentemente molto molto amareggiato si è ritirato da tutto è stufo di essere solo no è abbandonato a se stesso ecco adesso ci sono dei fermenti proprio oggi perché dopodomani c'è questa udienza importante ma siamo sempre in pochi e i giornalisti che dovrebbero avere questo dovere di cronaca e di informazione nei nostri confronti non lasciano perdere non fanno nulla in una in un importantissimo libro di Bruno gli eroici furori un dialogo sull'amore bellissimo a un certo punto Bruno racconta il mito di Atteone e lo racconta rivisitandolo un poco è bello è molto bello come lo racconta lui che è sempre molto appassionato molto coinvolgente è uno spirito molto forte molto molto vivo è uno dei pochi uomini vivi che vivono in quel momento e nel mito di Atteone Bruno sottolinea questo Atteone è un cacciatore che gira per il bosco per cercare i cervi da uccidere e a un certo punto spostata l'ultima frasca si trova di fronte Diana la dea Diana la dea della caccia completamente nuda io mi ricordo che quando quando spiegavo questa cosa a scuola molti anni fa mi capitò un alunno che alzò la mano e disse ma scusi professore ha detto che vide Diana nuda dico sì e non ci ha fatto niente dico questo per dire cosa scatta nella mente della gente ma comunque no mi spiace per te non è porno questo racconto questo mito cosa succede che Bruno ci dice Atteone vede la Diana nuda e che cosa accade che contemplando Diana nuda si trasformi immediatamente in un cervo si trasforma in un cervo vuol dire che di fronte alla verità attenzione bene perché questo è un insegnamento importantissimo di fronte alla verità noi non siamo più i padroni noi non siamo più i cacciatori noi ci trasformiamo in preda è la verità che ci possiede e che deve possederci non noi possedere lei come invece questi buoni di regime continuano a credere di poter fare la verità possiede l'uomo non l'uomo la verità Heidegger dice noi camminiamo nel bosco siamo dentro il bosco non possiamo pretendere di capirlo il bosco di prenderlo afferrarlo manipolarlo non è così noi saremo sempre dentro siamo parte siamo sempre ai custodi pastori pastori dell'essere invece molti troppi uomini cercano la verità per poi impossessarsene credendo di averla trovata e di usarla come arma nei confronti degli altri Matteone viene trasformato in cervo da cacciatore a preda e c'è un epilogo l'epilogo è che i suoi cani si voltano lo vedono e lo sbranano mandandolo in mille pezzi questo è il problema del rapporto con la verità questo è il problema di cominciare ad accostarsi che è sempre un qualcosa di pericoloso e rischiare di venire sbranati come come sta rischiando Assange io non credo nel mio piccolo pessimismo che ci siano molte possibilità rispetto alla verità dico ancora una cosa che mi viene in mente adesso in una in una importante in uno dei più importanti dialoghi di Bruno sulla sulla astronomia sulla sulla teoria dei cieli diciamo così a un certo punto viene fuori una frase meravigliosa in cui è contenuto in qualche maniera tutto il segreto della verità dice Bruno la luna è tanto cielo a noi quanto noi a lei la luna è tanto cielo a noi quanto noi a lei non c'è un unico punto di riferimento per noi la luna è il cielo per la luna il cielo siamo noi dobbiamo imparare a capire questo non significa che non esistano verità significa che però a seconda dei punti di vista delle posizioni assunte del luogo in cui siamo nati della tradizione in cui siamo cresciuti la verità cambia e dobbiamo imparare a rispettarla il fatto che Assange stia rischiando questo dà l'idea chiara di quanto sia pericoloso di quanto faccia paura un uomo capace di guardare in faccia la verità e di diffonderla senza temere per la sua salute per la salute dei suoi cari per le sue finanze per il lavoro ho fatto già tante volte questo esempio la commessa che nel supermercato vede che il suo principale cambia la data di scadenza delle mozzarella vede che fa questo e non fa niente assume esattamente lo stesso atteggiamento di qualsiasi altro mafioso ognuno di noi può fare qualcosa nel suo piccolo ma ma nel momento in cui venisse a dirci sì ma io non ho detto niente sai perché perché ho famiglia perché ho bambini l'assolveremmo tutti e diremmo ma sì hai ragione e no ma non è così che andremo avanti è inutile fare le marce contro la mafia e poi cercare di scavalcare gli altri al concorso ecco Assange è pericoloso Giordano Bruno era pericoloso prima di morire nel giorno in cui nel gennaio del 1600 gli venne comunicata la sentenza la sentenza di morte era seduto di fronte a tutto il collegio degli inquisitori e abbiamo testimonianza circa quello che disse lo disse piano ma fu udito e si capì cosa stava dicendo Bruno che stava per morire che tremava non riusciva quasi a parlare dalla paura Bruno si voltò guardò uno per uno tutti i suoi inquisitori e ognuno di loro disse avete paura più voi di me avete più paura voi di me avete più paura voi di me questo è quello che ci aspetta tirare fuori gli attributi smetterla di navigare su internet con pseudonimi smetterla di avere maschere smetterla di di temere le conseguenze trarre dall'insegnamento di Bruno e di Assange e di tanti altri l'esempio pensate a Socrate l'esempio pensate a Falcone e Borsellino la gente che ha saputo morire a testa alta noi questo dobbiamo imparare noi questo dobbiamo insegnare nelle scuole noi questo dobbiamo imparare a fare senza farci gli sconti e senza trovare sempre delle scuse usciamo allo scoperto esponiamoci più saremo e più saremo forti grazie